La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo alla votazione dell'articolo 3. Non vi sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Il caso ha votato. La votazione è chiusa. La Camera approva. Relatrice, prego. Articolo 4. 4.51 Quintarelli. Invito a ritiro parere contrario. 4.53 Centemero. Invito a ritiro parere contrario. 4.200. Favorevole. 4.12 Nitti. Scusi, 4.12. 12. Invito a ritiro parere contrario. 4.50. Favorevole. 4.14. Invito a ritiro parere contrario. 4.54. Invito a ritiro parere contrario. 4.55. Invito a ritiro parere contrario. 4.56. Invito a ritiro parere contrario. 4.57. Favorevole. 4.21. Invito a ritiro parere contrario. 4.58. È identico 59. Parere favorevole. Favorevole. Sì. 4.60. Invito a ritiro parere contrario. 4.28. Invito a ritiro parere contrario. Ci sono negli aggiuntivi. 4 bis. Ah, ok. Quindi andiamo... Ah, questo è il 4 bis. Ok. È il relatore di minoranza. 4.51. Ci rimettiamo all'aula. 4.53 centemero. Ci rimettiamo all'aula. 4.12.